Il gruppo Facebook 6 di Augusta 6 la settimana scorsa ha pulito i litorali del Faro e della spiaggia vicino al Club Nautico di Augusta. Una manifestazione che è stata apprezzata. Adesso Mare di Ikea, qui rappresentata da Luca Di Giacomo, che si occupa di ambiente da anni, anche come insegnamento delle scuole, domani e domenica 29 giugno avrà come mira quello di ripulire il Borgo di Brucole e tutto quanto? Sì, buongiorno. Tengo a precisare che le giornate sono in particolare due. Si comincia oggi, sabato 28 giugno alle ore 16, con un'attività di pulizia straordinaria del centro urbano del piccolo Borgo Marinaro. Domani seguirà l'azione con la ripiantumazione dello spazio destinato a verde pubblico delle piazze di Brucoli, in particolare a Piazza Belvedere, meglio conosciuta come Uspasali, e Piazza Castello, davanti al castello chiuso ormai da troppo tempo. Il castello aragonese che fu aperto qualche anno fa e che ora è chiuso. Purtroppo un'altra disgrazia nostra. Cosa farete? Pianterete palme oppure cos'altro? Allora, la piantumazione prevede l'inserimento di essenze di piccolo fusto, almeno per il momento. Faccio una piccola parentesi che non è stato specificato, che a coordinare le attività e ad organizzare il tutto, non è soltanto l'associazione Mariligea, ma anche la neocostituenda associazione Le Ortiche di Brucoli, che accorpa i commercianti e i cittadini, gli imprenditori del Borgo Marinaro. Le Ortiche di Brucoli? In più aderisce anche il progetto Arucazioni, che prende il nome dalla denominazione dialettale di Brucoli. Arucazioni. Il gioco di parole si intuisce facilmente. Quindi ci siamo messi insieme perché l'obiettivo è comune e interessa praticamente tutti, anche gli augustani. Naturalmente il contributo di ciascuno, il contributo dei singoli cittadini è fondamentale perché la manifestazione abbia un esito positivo, che non serve soltanto a pulire, ma serve soprattutto a sensibilizzare. A sensibilizzare coloro che generalmente hanno delle abitudini a dir poco discutibili, però reversibili al nostro vedere. Quindi dare l'esempio svoltandosi le maniche e mettendosi in gioco in prima persona, può servire sicuramente a far vergognare e a far pensare un po' di più prima di buttare la carta per terra o il sacchetto nel cestino piccolo dei rifiuti urbani. O le cicche di sigarette, numerosissime. O le cicche di sigarette nelle aiuole, insomma a cambiare completamente. O le feci dei cani perché ce ne sono poi a bizzeffe. Abbiamo trovato persino un cumulo di pneumatici in piazza Belvedere, quindi siamo molto oltre i rifiuti dei cani. Per fare sì che il cambiamento avvenga non bisogna pretendere che tutto succeda di punto in bianco. Bisogna dare l'esempio, i passi si fanno piano piano, come noi di Marilichea siamo abituati a fare, però così come sempre siamo abituati si raggiungono grandissimi risultati e grandi traguardi.